Da 6 al 9 marzo Moto Days e tantissimo custom insieme a amici di Bikes Life. Esatto. Quest'anno al Moto Days porteremo per il primo anno l'Italian Motorcycle Championship, quindi il nostro campionato di bike show. Dopo ormai 4 anni che collaboriamo con la Fiera di Roma e quindi con Moto Days, per quanto riguarda l'aerografia e il custom painting show, quest'anno abbiamo deciso di aumentare, di collaborare per la creazione di un polo custom ancora più grande e con ancora più novità, quindi l'Italian Motorcycle Championship con il bike show. Dopodiché il custom painting che naturalmente rimane un punto fisso e ci saranno sempre più aerografisti e custom painter da tutta Italia. Dopodiché auto americane, quindi USA and Custom Car Show anche assieme ai ragazzi del portoricano. E cosa ancora? Ci sarà un bel contest nuovo con delle biciclette customizzate, abbinate a delle moto e ci saranno tante altre novità che poi vi sveleremo man mano. Quindi tanto custom, mi raccomando, a Moto Days dal 6 al 9 marzo. Esattamente, ciao a tutti.